Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di lunedì 8 maggio. Sono le 22.53, sono quasi le 23, e sono scattati due allarmi, sia quello di Bitcoin che avevamo messo nella precedente analisi per cui valutare di andare short, che quello su Ethereum. Quindi andiamo a vedere che cosa stiamo facendo su entrambi. Ecco, prima di tutto siamo ancora scesi, 27.309 dollari contro 26.978, ci stiamo veramente avvicinando. Basta poco per avvicinarsi a un vincolo che può segnalarci che nonostante la partenza eventuale di un nuovo TP1 bisettimanale, ci sia già il rischio che questo mensile si vincoli a ribasso. Procediamo però passo per passo, perché è una possibilità e non è ancora successo niente. Però, come vi avevo detto nella precedente analisi, per adesso non è ancora chiusa la candela daily di oggi, questa non è una bella candela per un rimbalzo e siamo finiti sotto la media mobile a 50 periodi, come detto, e dentro la nuvoletta chiamata Kumo. E questo per ora non è affatto un buon segnale, come la vicinanza a questo minimo, quello da cui può essere partito il secondo ciclo mensile di questo primo trimestrale. che cosa possiamo dirci? Che l'aspettativa principale, quella di chiusura di un primo T meno 4 inverso, eccolo qua, tac, è stata rispettata, vedete come l'avevo disegnata, chiusura dell'inverso e poi spinta ribassista, si poteva andare più su, più giù, tutto quello che volete, ma questo disegno era per spiegare che cosa ci si poteva aspettare e questo è ciò che è successo. Sostanzialmente abbiamo chiuso, non ci siamo vincolati lato inverso e siamo ancora scesi, violando peraltro questo minimo. Da qui abbiamo il tempo per la partenza di un ottavo T meno 3 completamente vincolato ribasso. Non abbiamo lo swing, manca un pezzo e lo swing però fa sempre da conferma, non è obbligatorio averlo. Qui vi faccio notare peraltro che abbiamo rimbalzato esattamente alla quarantaquattresima barra. È una cosa che mi accende subito immediatamente una lampadina perché è la durata massima che ci può essere per un T meno 3, ovvero un ciclo giornaliero che si è vincolato ribasso. E dopo, quindi tenere conto di questo genere di cosa, specie se si è andati short dopo il video che ho dato ieri, il discorso sarebbe sempre di proteggersi con un take profit o aver chiuso già l'operazione short. Perché chiuderla? Perché, per quello che ci siamo appena detti, ogni tanto conviene portare a casa qualche cosa di tranquillo e di sicuro, anche soltanto una scalpata, e qui di discesa ne abbiamo avuta. E facendo la considerazione che vi ho appena fatto vedere, diventa difficile resistere alla tentazione di non chiudere un'operazione per cui siamo entrati su questo minimo e su cui abbiamo ancora un minimo di margine. È tardi, e in questo momento, me ne rendo conto, andava fatto sicuramente prima. Per questo motivo facciamo anche l'alto conteggio che è utile. L'altro conteggio che è utile è questo, l'inverso. Siamo arrivati a 20 barre, quindi possiamo ancora salire per cercare un massimo, eventualmente per minimo 24 barre, oppure lateralizzare tutto quello che volete, ma il modo più semplice per spiegarlo è questo. O così, o così, o in tutte le forme che desiderate, ma per chiudere un t-3 è inverso, bisogna fare un baffo di qualsiasi entità. Per questo motivo, attenzione, adesso di nuovo diventa fondamentale fare raffronti tra i vari grafici, intanto questo movimento l'ha fatto, come detto nella precedente analisi, e ragionare non soltanto da questa parte, ma ragionare anche da quest'altra. Ovvero, abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un bisettimanale? Assolutamente sì. Sufficiente e necessaria, necessaria e sufficiente, non significa che si chiude qui. La definitiva è la chiusura complessiva, quella per la quale iniziamo a vedere un minimo che non viene più superato per del tempo e per almeno due barre. Perché? Perché si può continuare a scendere anche fino alle 11 barre, noi siamo a 7. Perché ci può essere un rimbalzino e poi una continuazione della discesa, se chiudiamo dentro la cumo ricordandoci la regola della cumo, se non abbiamo una rapida risposta o se non riusciamo ad avere spinta a livello di volumi soprattutto. Per questo motivo facciamo tanta attenzione, perché qui la condizione per la chiusura in ogni caso di un bisettimanale c'è, ma non è detto che gli basti una settima candela di secondo ciclo settimanale. Al contempo di inverso con già 3 barre sotto un massimo. Abbiamo come minimo la partenza di un nuovo T più 1 inverso. Abbiamo dei vincoli su questo mensile inverso che è peraltro arrivato a 25 barre? Non abbiamo niente, assolutamente nessun vincolo. Per ora è un ciclo che ha ritracciato molto di inverso, ritracciato, guardate, ve lo giro dall'altra parte così che si capisce meglio. Anzi, non me lo fa fare? No. Ok, sì. Ah, ecco qua. Ok. Che partendo da qua è sceso molto, si è avvicinato di nuovo molto alla sua partenza, ma poi su quest'area è costruito per salire, perché è il contrario del lato indice. Per questo motivo vediamo un attimino come chiude la candela, vediamo se c'è una reazione oppure no, perché come chiuderà la candela ci dirà tante cose. Nell'evoluta non c'è soltanto un discorso di ciclica di Hurst, GAN, volumetrica, analisi tradizionale classica, ma ci sono anche le candele giapponesi che ci dicono tante cose. È possibile avere un rimbalzo con una candela di questo tipo, ma sarebbe più interessante avere una candela di questo tipo, ok? Un hammer, una doji, tutto quello che volete. Questa non è tipicamente una candela dopo la quale si rimbalza, può succedere per carità, ma si farà magari una candela, un'altra candela, un'altra candela e solo dopo magari si riparte. E anche in quel caso, attenzione, perché arrivati a 25 barre di inverso, 24 giorni sotto un massimo. Che cosa lancia questo ciclo di inverso? Un ciclo di 2 gradi e quindi ci può stare? Qui abbiamo avuto un t più 3 inverso. Qui abbiamo avuto un altro t più 3 inverso, ovvero trimestrale inverso. Abbiamo viaggiato a trimestrali. Primo trimestrale inverso, secondo trimestrale inverso, terzo trimestrale inverso. E questo? Vuole appartenere ancora a questo annuale inverso oppure no. Perché, come annuale inverso, siamo arrivati a 243 barre e poi abbiamo in continuazione provato a continuare a scendere. E ora si può arrivare, come sappiamo, fino a 336. Però questo massimo sono 24 barre che non andiamo a ritrovare questo massimo a 30968. E sappiamo che ne bastano 48, il doppio del tempo, bastano tra virgolette. Comunque il doppio del tempo va a far partire un annuale inverso. Giusto? Qui siamo finiti sotto la media mobile che ci dà la spinta, che ci fa da supporto. Siamo dentro la cumo, non buon segnale, anche quello, come già detto. Quindi occhio a chi continua a dirvi che si va to the moon. Vediamo un attimo che cosa succede e se viene violato questo vincolo a 26978. E poi facciamo tanti altri conti, perché se c'è una violazione già di questo minimo, sì sì, un rimbalzo ci sarà, per carità. Assolutamente, il rimbalzo ci sta per la partenza di un bisettimanale, persino tre barre sopra un minimo come minimo. E però poi bisogna vedere cosa succede. Se si recupera e supera la media mobile, oppure no, se non c'è quel recupero, bisogna iniziare a tenersi stretti. Perché una partenza di un annuale inverso significa discesa. Ma non discesina, discesa. Poi ritentativo di salita, poi discesa di nuovo. Ogni volta che si chiude un ciclo mensile, trimestrale, sì sì, c'è il suo rimbalzo. Ma poi c'è il colpo successivo ribasso. D'accordo? Per questo motivo bastano tre giorni di rimbalzo per chiudere il terzo T inverso, per avere un mensile inverso completo. E poi, occhio, eh? Perché bisogna già vedere se ci sarà il rimbalzo. Poi però, ecco. Quindi, in questo momento, attenzione, massima, 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 massima. D'accordo? Che cosa è successo su Ethereum? Stessa cosa. Abbiamo di nuovo bucato invece che salire. Non siamo riusciti ad andare qui. Ok? Siamo andati sotto il minimo precedente. E che cosa abbiamo? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette candele. Anche in questo caso. Allora, qui, persino, teoricamente, avremo già un mensile pieno. Con soddisfatte tutte le condizioni per la sua chiusura e una partenza di rimbalzo. Qui, come vi dicevo, occhio, perché potremmo essere nella stessa identica situazione che c'è sul MIB, ovvero avere questo raccordo che fa partire dopo il mensile. Che, se si vincola a ribasso, sono dolori. Per questo motivo, anche su Ethereum, questa è una delle centrature possibili. Ok? Ma c'è anche questa. Ricordiamoci che abbiamo, tra l'altro, violato il punto G in precedenza. Poi ci hanno fatto questa candela, dopo la violazione. Poi ci hanno fatto questa candela, ma se la sono rimangiata completamente e siamo ritornati sotto il punto G. Questo è un primo punto d'allarme. Infatti il rimbalzo è durato ben poco. Anche in questo caso abbiamo un annuale inverso, che a quanto tempo è arrivato? Perché è da un po' che non lo guardo. Siamo già a, appunto, 246 più, in questo caso, quanti giorni rispetto a Bitcoin? Qui siamo a 22. Siamo indietro di un paio di giorni. Però, attenzione, perché la situazione inizia a farsi critica. O iniziamo a ritornare qui sopra, e poi qui sopra, oppure se cede, anche in questo caso, il grafico, il sostegno, l'abbiamo perso, quello della media mobile. E qui chiudiamo dentro la cumo. Attenzione, perché rischiamo di ritornare qui sotto, attorno ai 1.759. E per quanto riguarda Bitcoin, il rischio è ancora più pesante. Si rischia di perdere 2.200 punti, circa, e finire qui. Se vogliono fare i fenomeni come al solito. Se vogliono arrivare agli HFT, a spezzare le reni, agli order. Ed è giusto che, come al solito, faccia il mio lavoro, e vi paventi quelle che sono le possibilità. Qui c'è tutto, ci sono tutte le condizioni per la chiusura e per la ripartenza. Ma, questa non è una candela mediamente di ripartenza. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo. Se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato spunti per operare, noi continueremo solo sui T-3. Solo sui vincoli ad operare, per sicurezza. Se comunque questa analisi vi ha dato qualche valido spunto, mettete un bel like e ci sentiamo domani. Arrivederci!